Per supportare l'unione, la parte più lunga è di 1.5 metri. A 230 metri è un'attività di sceglia con la sua lunghezza. Dependendo sulla lunghezza della parte, la sceglia riuscita e segua attivamente la tuba durante il processo di corte. Una volta che la parte è finita, la sceglia lentamente la parte sull'unione di sceglia, che porta il tubo sul convegno.